249 grammi Stiamo parlando del Mavic Mini Finalmente abbiamo avuto la possibilità di averlo tra le mani anche noi Un ringraziamento specialissimo per chi ci ha permesso di farcelo avere in test Ovvero Attiva SPA Ma bando alle ciance prendiamo un metro Anzi un righello per avere un metro di paragone Con questo piccolissimo drone Ho già fatto qualche volo e ho trovato i pro e i contro Di cose da dire ce ne sono veramente tante Mi interessa soffermarmi soprattutto sul discorso Se questo drone può essere utilizzato anche per operazioni specializzate E quindi prendere il posto del piccolo SPARC alleggerito Che per gli ultimi due anni, tre anni Mi ha accompagnato in tutte le operazioni critiche all'interno dei centri urbani Perché il discorso principale che interessa Quanto meno gli italiani adesso Ma anche gli europei futuristicamente È proprio il discorso dei 300 grammi Sui video che ho visto online A parte quelli dell'amico Danilo di Quadricottero Che saluto e che tra poco avrà modo anche lui di fare la recensione E per par condizion mi sembra giusto salutare anche Stefano di DroneZin Che ha avuto modo di testarlo anche lui a fondo in questi giorni La cosa che mi interessa appunto è mostrarvi Inizialmente le caratteristiche tecniche Quindi la tipologia di drone Le dimensioni sono veramente ridicole ragazzi Ridicole è la parola esatta Giuro non avevo mai misurato un drone con un righello da scuola Non ci credo La diagonale, la distanza diagonale L'interasse da motore a motore è di 213 mm È uguale al mio drone da corsa praticamente Il drone lavora con dei motori brushless La velocità di salita e di discesa è di 4 metri al secondo in modalità sport Di 2 metri al secondo in modalità P E poi hanno fatto una modalità cinematica Che andremo a vedere poi nei test fuori dall'esterno Che va a 1,5 metri al secondo Per quanto riguarda la velocità di discesa Si parla di 3 metri al secondo in modalità sport 1,8 metri al secondo in modalità P mode E 1 metro al secondo in modalità cinematica Per quanto riguardano invece le velocità orizzontali Sappiamo che in modalità sport andrà a 13 metri al secondo In modalità P mode andrà a 8 metri al secondo E in modalità cinematic andrà a 4 metri al secondo Così in sport vado verso sinistra Torno qui Questo invece è il cinematic mode Molto più morbido Questa è la velocità massima del cinematic mode Torno qua Vedete che è molto molto più fluido Torniamo in P mode Che è la classica che è questa Un altro giro in sport Vedete la differenza si nota alquanto La rotazione sull'asse dello Yaw è perfetta Molto stabile C'è anche del vento oggi Ma non gliene frega assolutamente nulla E vediamo come si comporta Con il classico test Di recupero della posizione Ritorna perfettamente anche in questo caso Nella posizione che ci interessava prima Parlano di 30 minuti di volo Io ci ho scaricato una batteria E l'ho abbastanza stressata Sono arrivato a 24 minuti Fino a quando lui poi non mi ha chiesto Il return to home Cerco di non stressarle eccessivamente Queste batterie Batterie da 2400 mAh Che sono posizionate qui dietro Con un comparto che mi ricorda tanto 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 per i nostalgici Il Phantom 1 Che si apre così Ok E andiamo a estrarre la batteria Che ha una piccola clip Qui sotto per poter permettere Di andare appunto ad estrarla Ed eccola qua 2400 mAh 7.2 volt per cella Quindi una batteria a due celle Di tipo Leon Che pesa da sola Quasi la metà del drone 100 grammi Una curiosità Sul sito parlano anche Di una batteria Che pesa 50 grammi Da 1100 mAh Da 7,6 volt Con una tensione di ricarica massima Di 8.7 volt Una lipo Non una Leon Sono variate anche Le inclinazioni del drone Perché arriva a 30 gradi In sport E a 20 gradi In P&C mode Si è tanto chiacchierato Della trasmissione A 5,8 e a 2,4 L'ho testato in automatico Quindi non gli ho dato una preferenza Se è a 2,4 o a 5,8 L'ho testato per vedere tanto Qui attorno Le distanze Fattibili Con questa macchina E non ho avuto nessuna difficoltà Ad arrivare ai miei classici 500 metri di test Bisognerà provarlo magari Anche all'interno Di centri urbani Per ora Nei centri urbani Non ci sono ancora entrato Ricordatevi che Nei centri urbani Così ve lo dico Perché online sento Compriamo il Mavic Mini Che così possiamo volare Nei centri urbani Eccetera Il drone attualmente Va registrato ugualmente Quindi Non è che lo comprate E potete volare In testa alla gente Innanzitutto occorrono Dei paraliche Se avete piacere C'è un altro sito Un altro canale YouTube In cui parlo Più di normativa Che altro Che si chiama Formazionedrone.com Magari ve lo metto Anche qua sotto In descrizione Dove parlo proprio Di queste regolamentazioni Facciamo corsi gratuiti Webinar Insomma Ce la giochiamo Abbastanza bene Anche nell'ambito droni Come sapete Sono istruttore Ed examini rena Che insieme All'ingegnere Fanelli Abbiamo creato Questo team Che cerca di darvi una mano E di chiarire Quanto meno Le basi Visto che questo Sarà secondo me Uno dei prodotti Più venduti Sotto il periodo natalizio Se lo volete comprare Poi qui sotto C'è il link Per andare ad acquistarlo E per insomma Supportarmi anche Sul canale Dicevo Non ho avuto problemi Di trasmissione Video e di trasmissione Con la radio Radio che tra l'altro La prendo che ce l'ho qui dietro Perché la sto caricando Radio che tra l'altro È praticamente più grande E più pesante Del drone stesso Nel momento in cui Noi la andiamo a chiudere Ed è una radio Classica Della serie Diciamo Mavic È più grande Del drone Stesso La radio Ha i classici Stick a molla C'è la possibilità Di gestire Le varie modalità Di volo Direttamente tramite Smartphone Tramite l'applicazione E l'applicazione A cui andremo a dare Un'occhiata Tra poco È un'applicazione Differente Non è la DJI Go Che si utilizzava prima Ma si chiama DJI Fly Quindi un'applicazione Dedicata al drone Che però È Devo dire È veramente Molto Molto smart In confronto Alla DJI Go Anche ciò che c'è All'interno della scatola È molto minimal Perché vi danno il drone Vi danno il radiocomando La cappottina Da rimettere Sul drone Quando la si chiude Che ogni volta Cambia le dimensioni Le forme La metodologia Di chiusura Quindi insomma Bisogna un attimino Capire come Funziona Ma è indispensabile Per non rompere Il gimbal A tre assi Che DJI Ci fornisce E un cavetto Di ricarica Che è un micro usb Qui dietro Con lo spazio Poi anche per la sd Il cavetto di ricarica Senza neanche carica batteria Mi piace tantissimo La scritta 249 Sul lato Del drone Parliamo un po' Della fisicità Di questo drone Quindi dei prodotti Della plastica Di ciò che Effettivamente È il feedback Tattile Che si ha Quando si va A prendere in mano Le plastiche sono Molto molto buone Alcune parti Del drone Tipo questa Dietro ai bracci Anteriori È di foam È morbida Probabilmente Anche per andare Ad alleggerire Ulteriormente La macchina Perché non ho Altre motivazioni Per cui non abbiano Deciso di fare Tipo le posteriori Che invece Sono completamente Piene Il drone È Nei bracci posteriori Molto solido Molto rigido Nei bracci anteriori Proprio perché C'è questa foam Vedete qui dietro È molto Molto elastico E si intravedono Dietro ai motori Dell'altra foam Qui sotto Quindi sempre Questo materiale morbido E si intravedono Le antenne Che vanno A passare sotto Alle piccole Zampine In stile Mavic Pro È veramente identico A Mavic Pro Non hai led Quindi non ci sono Led Di posizionamento Se non Il led Che ci segnala Appunto Lo stato Sia della batteria Che del segnale Della ricezione Dei satelliti Davanti Non ha Nessun tipo Di sensore Anche se La faccia da squalo Classica Ha questi due buchi Sono delle piccole retine Di aerazione Quindi niente Di collegato Ai sensori Stessa cosa Nei lati Abbiamo queste retine Di aerazione Invece sotto Oltre al Click Della batteria Per andare Ad attivare Per andare Ad accendere La batteria Che devo mettere Sotto carica Come ben vedete Perché ho appena Terminato di farci Un voletto Che si attiva Sempre con un click Lento E un click Prolungato Qui sotto Abbiamo Le nostre Camere Di VPS Quindi Division Positioning System Che ci permettono Di andare Ad atterrare In maniera Più morbida Senza andare A sbattere Per terra Ormai sono Di serie In qualsiasi Tipo di Drone DJI Le eliche Assomigliano sempre di più Alle eliche Della Parrot La forma in realtà Non è ancora Come quella Della Nafi Però il metodo Di collegamento Vedete che È Questo Cioè non possiamo andare A togliere A baionetta Le eliche Dobbiamo utilizzare Un cacciavite Che viene fornito All'interno Della scatola La stabilizzazione Dei tre assi È ottimale E permette anche Di andare A tiltare Verso l'alto La camera E la telecamera Ha un sensore CMOS Da 1 su 2.3 pollici Assomiglia tantissimo Alla camera Dell'Osmo Pocket In realtà Non ne ho uno Qui da paragonare Ma se vedete Magari qua Vi metto La fotografia Della telecamerina Dell'Osmo Pocket È leggermente Differente Perché L'ottica In questo caso Non è centrata Mentre nell'Osmo Pocket Sì Il field of view Della telecamera È di 85 gradi Ed è Un 24 mm 35 equivalenti Apertura f 2.8 E riprende Da un metro Ad infinito Ecco Parlando proprio Dell'apertura E comunque Del reparto Dedicato Al video Anche con gli ISO Che sono Con un intervallo Da 100 a 3200 Devo dire che Non è ancora Per niente Ottimizzato Il reparto software Nel senso che Nel momento in cui Noi andiamo ad utilizzare Il drone In modalità video Non abbiamo la possibilità Di modificare nulla Se non Il valore di esposizione Nel reparto fotografico Invece sì Possiamo Attualmente andare A modificare Gli ISO Da 100 a 3200 In manuale E da 100 a 1600 Invece in gestione automatica Le dimensioni delle foto Sono di 12 megapixel Quindi 4000x3000 E possono essere fatte In 4 terzi Oppure In 16 noni A 4000x2250 Si possono fare anche Scatti singoli O scatti intervallati E tornando Al reparto video La risoluzione Di 2.7k A 25 Finalmente 25 frame al secondo Oppure 30 frame al secondo O 1080 A 25 30 50 O 60 FPS Perché dico Finalmente Perché lo spark Era bloccato a 30 Non che me ne fregasse Di farne 60 Ma Mi interessava molto Riuscire ad arrivare A 25 Quindi c'è la possibilità Di andare ad impostare Gli hertz Della camera In virtù Dei 50 O dei 60 Quindi in virtù Della NTSC O del PAL Yeah Bitrate massimo Raggiungibile Da questa minuscola Telecamerina 40 megabit per secondo E i file supportati Sono il FAT32 E l'ex FAT Formato fotografico Solo JPEG E il formato video MP4 Con codec H264 Come vi dicevo Prima ci sono due modelli Uno europeo E uno americano Si differenziano Dalla sigla Che leggo MR1SS5 Che va a 5.8 GHz E basta Che sarà quello americano Mentre Il MR1SD25 Che va a 2.4 E a 5.8 GHz Che sarà quello invece Italiano europeo State in occhio Perché La differenza È sostanziale Nel senso che In Italia Non si può Utilizzare un drone FCC È necessario utilizzare Un drone CE Della comunità europea Appunto Per non Infrangere Le regole C'è proprio Danilo Di Quadricottero News Che ne parla Approfonditamente Sul suo video Quindi se volete Andare un'occhiata A curiosarci Iscrivervi da lui Poi iscrivetevi di nuovo Da me Insomma Facciamo Community È molto piacevole Soprattutto quando si trovano Informazioni corrette E dettagliate Perché spesso e volentieri Le primissime recensioni Che si vedono Sono poco dettagliate Da un punto di vista Normativo Cosa che invece Secondo me Dovrebbe essere Il primo Punto Da affrontare Sì ok Io vi ho raccontato Le specifiche tecniche Ma adesso vi sto a spiegare Perché 249 grammi Non vuol dire Drone inoffensivo Attualmente In Italia Per ottenere L'inoffensività Di un drone Occorre Riconoscere Il mezzo Tramite Una domanda Di rispondenza Da inviare Ad ENAC Attraverso la quale Si dichiara Che questo È un drone inoffensivo Secondo l'articolo 12,5 Del regolamento Mezzi aerei Pilotaggio remoto L'ho detto lentamente Di solito Sono uno che chiacchiera E che parla sempre Molto velocemente Perché Articolo 12,5 Che vi lascio magari Anche qui In descrizione È l'unico Articolo Del regolamento Mezzi aerei A pilotaggio remoto Che chi Decide di volare Con un drone Sotto i 300 grammi Deve conoscere Non è vero Non è l'unico Articolo Dovete leggervelo Tutto il regolamento Però Tramite quel singolo Articolo Riuscirete a capire Veramente tante tante cose Ma andiamo avanti Anche perché Il regolamento Magari ve lo andate a guardare Da soli Perché altrimenti vi annoio O magari insomma Ci facciamo due chiacchiere Il martedì sera In diretta Sempre su questo canale Visto che adesso Dovrei piano piano Ricominciare A creare contenuti Chi mi segue Un po' di più Sa che Tendenzialmente Tre contenuti a settimana Su questo canale Escono L'ultimo mese C'è stato un po' di Di delirio lavorativo Quindi ho dovuto Rallentare un bel po' Tant'è che non ho ancora Neanche fatto La recensione Della GoPro Hero 8 Ma devo essere sincero Ci tenevo di più A fare La recensione Del Mavic Mini Che quella Della GoPro Hero 8 Magari oggi Se ho un po' di tempo Mi dedicherò Anche A questa cosa qua Sono rimasto Veramente Molto soddisfatto Di questo piccoletto DJI Non si è smentita Neanche questa volta L'unica cosa Che non mi soddisfa Attualmente Confido In un aggiornamento Software È l'impossibilità Di andare A gestire i parametri Video Perché vedrete Nei video Che andrò a pubblicare La problematica Principale È l'esposizione E comunque L'impossibilità Di andare A bloccare I parametri ISO Piuttosto che Shutter E via dicendo Se dovessimo Pensare comunque Di paragonare Questo mezzo Con il vecchio 300 grammi Il vecchio Spark Non c'è dubbio Che la qualità Dell'immagine La qualità Di volo La qualità Generale Di tutto il mezzo Compresa La sua portabilità Batte Decisamente Lo Spark Quindi se volete Fare un upgrade Mi sento Di poter dire Che l'upgrade Con questo mezzo Vale veramente La pena Mi sento Mi sento Mi sento Mi sento La mia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ho parole, non ho veramente parole, sono riusciti a creare una macchina estremamente piccola, di sicuro molto utile sia come drone da divertimento sia per chi potrà iniziare ad utilizzarlo per lavoro come faceva prima con effettivamente lo Spark. Penso di avervi detto tutto quello che era necessario sapere, quantomeno per l'inizio di questa recensione. La cosa che mi interessava maggiormente era appunto darvi un'infarinatura generale e raccomandarmi anche per quanto riguarda la parte normativa. Se siete interessati alla parte normativa magari fatemelo sapere qui sotto che così vediamo di organizzarci nelle prossime settimane anche con l'ingegnere Andrea Fanelli per magari un webinar, una chiacchierata online con tutti voi. e spargete la voce, condividete il video se vi è piaciuto, se pensate che possa essere utile. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ricordatevi che noi ci vediamo il martedì sera con la diretta, il mercoledì con queste recensioni, test, prove di volo e prove anche di telecamere generiche e il giovedì anche con i corsi e i tutorial di DaVinci Resolve. A me non resta che salutarvi e dirvi che ci vediamo con il prossimo video. Ciao a tutti!